Azione! Ho chiesto al mio portiere, ma sono credibile come mamma? E lui? Cioè lui c'è che parla? Conoscendo di me. Io mi sono prenotata a un viaggio, tanto che l'ufficio è chiuso. Zanzibar, 27 gradi centira di tutta amveratura madia. Cioè, capisci? Spiagge bianche, mare cristallino. Basta, no! Non lo faccio più, Babbo Natale. Io non lo faccio più. Chiaro? No, mi vedi? Mi stai a guardare? Ho una bella sorpresa oggi per le mamme imperfette. Ho una mantella da fare invidia. Un momento. Ferma. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. State larghi, state larghi. Dovete girare i carrelli adesso. Ecco 돌�ito Un, due, tre, dove se puoi... Una, due, tre, dove si commette da un scherzare Fa la 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 the la di thou Ormai io fotografo la battuta e poi la dico leggendola, cioè non riesco a farla scendere giù, nell'anima, sentirla mia, per cui la dico e la vedo, la leggo. Ma sai da quando è così le dice meglio? Grazie. La concentrata è finita, abbiamo solo chi noto e sbasi. Grazie.